Dal 6 al 22 settembre Montesilvano ospiterà i mondiali di pattinaggio World Skate Games 2024. Alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, gli atleti della Nazionale Italiana di Pattinaggio, Corsa, Enzo Embastaro, presidente del CONI Abruzzo, stamani una pista nuova di Zecca, che fa parte di un impianto sportivo in via di ultimazione, è stata consegnata alla federazione. Ascoltiamo Alessandro Pompei, assessore allo sport del comune di Montesilvano. Finalmente riconsegniamo una parte di questo nuovo impianto sportivo, di questa nuova opera pubblica, alla collettività. Nello specifico oggi c'è il primo training test ufficiale della Nazionale Italiana Speed per la preparazione ai prossimi World Skate Games, che inizieranno il 6 settembre e quindi siamo molto soddisfatti perché è un'opera straordinaria e di fondamentale importanza per la città. Le tempistiche di realizzazione sono state assolutamente rispettate perché il cantiere è stato avviato a ottobre dello scorso anno, mi pare, quindi diciamo che siamo stati molto veloci grazie anche e soprattutto al lavoro degli uffici e dell'impresa, però siamo veramente contenti di poter inaugurarla con il primo allenamento della Nazionale Italiana. Sabatino Aracu che è storico presidente nazionale e internazionale World Skate, oggi si inaugura questa pista a Montesilvano e soprattutto si presenta un evento di tutto rispetto. Siamo alla vigilia di uno dei più grandi eventi che oltretutto ospita il nostro paese, i World Skate Games sono in mondiale dei mondiali e ricordo che addirittura abbiamo fatto la presentazione tanti mesi fa di questo grande evento che è in quattro regioni, proprio a Montesilvano al Paladin Martin, quindi veramente non è casuale questa cosa. Oggi stiamo inaugurando una pista che sarà una delle più belle al mondo e si faranno i mondiali, quindi l'inaugurazione vera non è quella di oggi ma è quella proprio nel vedere questi campionati del mondo, un evento che porterà e verrà l'Abruzzo grande protagonista insieme a Lazio, quindi a Roma, a Rimini, a Novara, ma l'Abruzzo è tutta la regione perché sono coinvolte tutte e quattro le province con tante gare che attraggono molto i giovani. Diventerà questo un grande festival dei giovani, girerà tanta gente e soprattutto avremo tanta visibilità.